Grazie a tutti. Grazie a tutti. Persona, almeno io, è molto attento al fatto che la mia energia relata all'emozioni non è semplice, e ci sono persone che, a dire, apprendono l'energia, e ci sono persone che donano l'energia, l'emozione a me. In generale, in sane relatoi, accadono tutti, ma ci sono alcuni relato che, a dire, l'energia è molto buona, perché magari abbiamo tempo per rompere i relatoi. No, vedo. Bene. Mi lascio a tutti al medito o al conmeditato. Resto con noi. Grazie. Saluto e buon venito a mia nuova Semenhoffa medito. Adesso, mi voglio leggere e meditare con voi su alcuni versi che vi ho trovato nella gazetta la esperantista in la jaro 1891. Temo per il lungo articolo, che il titolo è dell'esperantista in la jaro 1891. è stato un'esperienza, come mi pensavo. E' stato parte, comence della pagio 1891. C'è stato un attento? Scribas Zamenhof. 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 Scribas Zamenhof.